Sarà Giuseppe Mangione, il nuovo capitano della Real Maestranza. Appartenente alla categoria dei Lattonieri Idraulici, Mangione è stato eletto all'unanimità da tutta la categoria nelle votazioni che si sono tenute nella parrocchia Regina Pacis, nella benedizione del parroco nonché guida spirituale della categoria Don Enzo Genova. Le altre cariche che sosterranno il capitano sono lo scudiero Aldo Bellomo, l'alfiere maggiore Francesco Mulè, il portabandiera storico Domenico Cardillo, il portabandiera Marcello Melfa e l'alabbardiere Vincenzo Milazzo. Nella serata dell'acclamazione erano presenti il presidente della categoria Lattonieri Idraulici Angelo Palermo, il presidente dell'Associazione Real Maestranza Giuseppe Tuminelli e il gran cerimoniere Gianni Taibbi. Sarà una bella esperienza, io lo auguro di fare una buona figura e quindi saremo, sono grato di fare il capitano. La famiglia è contentissima anche perché hai due figli meravigliosi che mi collaborano e quindi sono contenti loro. Io spero che i ragazzi facciano una buona cosa e si fa avanti con l'ARM Stranzi. Speriamo che i giovani si mettono pure vicini a noi. Sono felice per la sua programmazione anche perché ha da sempre fatto parte della categoria degli idraulici e io l'ho sempre appoggiato nella categoria e anche nel lavoro. Nella nostra categoria ci mettiamo sempre d'accordo un po' tutti come una famiglia e questo perché vogliamo che sia una categoria unita e siamo arrivati a una conclusione guardando i requisiti di ogni singola persona, roba varia e siamo riusciti ad avere un capitano e tutte le cariche capitanali con l'accordo di tutti. La sensazione è qualcosa di molto bello perché stiamo facendo un cammino ci stiamo sforzando di camminare insieme proprio per fare un'esperienza fondamentalmente di comunione all'interno della Chiesa e quindi la sensazione è di un qualcosa di bello che deve venire fuori e anche perché l'aria che si respira all'interno della categoria è molto bella è un grande spirito di solidarietà, un grande spirito di comunione. Grazie 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 Grazie